E mentre su Nuova York calavano le prime ombre della sera, nel misero bar televisivo aleggiava il vuoto assoluto dei contenuti culturali. Che catastrofe. La nostra voce fuori campo, che catastrofe. Grazie, grazie, grazie. Che sta facendo? Che sta facendo? Ero fuori campo! Adesso entrerò in campo. Ah, sta facendo il riscaldamento? Perché c'entra? Lei è un attore, lei è un attore. Appunto, appunto, giusto appunto perché io sono l'attore, lei no. No, no, no. E dimostrerò, entrerò nel Guinness dei primati. Addirittura. Citando tre commedie di Shakespeare. Non ho capito, lei vuole entrare nel Guinness dei primati? È sceso un attimo, perché questo mi suda, mi evapora. Ma non ci sta muovendo. E il liquido fermo, servo di scena. Venga di qua, venga di qua, venga di qua. Non lo lasci là, mi serve. Questa ragazzina mi serve. Questa ragazzina di che? La ragazzina Franchina. Va bene. Ci darò tre commedie di Shakespeare. Si mangiava da nello. Sono così interessato. In due minuti. Eh, ma è impossibile, come fa? Chiamo il notaio? Immediatamente qua. Prendiamo il notaio, prendiamo il nostro notaio. Iniziamo. Allora. Notaio qua. Notaio qua presente. Mi raccomando. Prego. Prendiamo il primo, prego. Schiavo. Ma chi è schiavo? Servo, via! Ah, pure, ma lo stai pure a sentire. Lo sto pagando, mi dia il tempo. Ecco qua. Vediamo il notaio. Che stai facendo? Mi dia il tempo. Mi stavo confrontando. Prego. Pronto. 3, 2, 1, via il tempo. Chi sono? Io! Chi sono io? Non vedo il nesso con Shakespeare. Come? Ren Lear. Vabbè, questa è Amanda Lear. Al massimo regina. No, che cosa? Se ne sta ancora discutendo. Vabbè, prendi io. Il secondo, presto, veloce. Non mi faccia perdere il filo, la concentrazione. Non lo taglio d'accordo. È per lì! È per lì la condola! È semi nuova! Ma che cos'è? Ha fatto 3 km. La condola! La condola! La cazza della condola! Sta vendendo una condola. E quindi? Il mercante di Venezia. Non lo taglio. Non lo taglio. Grazie! Non lo taglio. Non lo taglio. Grazie! Ha detto 3. Si. Ci manca il terzo. Un attimo. Mi porti il terzo. Vediamo se riusciamo. Andiamo a vedere. Notaio non è comminto. Notaio non è... Peppere, 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 peppere. Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Molto rumore per nulla. Ah, questo sarebbe il terzo. Va bene. Grazie. Stop al tempo. Grazie! Come è andata? Il notaio... Signori, il notaio conferma il record. Dice di sì. Il notaio dice di sì. Conferma il record. E giusto appunto per festeggiare questo... Complimenti! Reciterò delle parole di Shakespeare. È proprio necessario. In lingua originale. Addirittura. Maestro Parris! È di là. Chi è? Ora la voce arriva. Ah, arriva. Rota la voce. Con la gentilezza che è sempre la... Contristinta. Mi esplici... Un bassofondo. Un bassofondo. Lei ti sposti. Perché dà fastidio al suono. Musica. Oui. Che? Che? No, l'inizio. No, no, oui. Si. Caro. Grazie. Che è? Nada nuovo. E non lo so lei. Una gestualità! Ah, la gestualità. Non faccio. Allora c'è, oui in aca. Invece era oui. Non era oui. Ah, è francese? No, è inglese. Oui. Ma bene, faccia lei, faccia lei. Oui. Alla. Oui. Vedi che è francese. Our champions. My friend. Vai? My friend. We are the champions. We are the champions. We are the champions. No time. No time for losses. Causes. We are the champions. Che pronuncia incredibile. Off. The. What? Eh? Posso dirlo? Posso dirlo? Posso dirlo? Io... Io non pensavo che lei parlasse inglese così bene. Parlo tante lingue. Ma lei deve andare, eh? Sì, dove? No, lei si deve andare a far vedere in giro. Sì, in giro. È i più grandi specialisti. La ringrazio. Piaggi, piaggi, piaggi. Pia! Oh! Oh!